io non ci posso credere ragazzi non ci posso credere è appena arrivato adesso in esclusiva di sport italia il messaggio che emanuele calaiò avrebbe scritto a decolle dello spezia ragazzi che ha creato tutto questo ambaradan che ha fatto sì che il parma venisse indagato per tentato illecito sportivo ok il messaggio è ei pippen non rompete il cazzo in venerdì con dei bacetti questo è il messaggio ragazzi per questo messaggio il parma calcio sta rischiando di non andare in serie A per questo messaggio ragazzi a voi i commenti c'è veramente il nulla il nulla stiamo parlando del nulla ha tentato illecito per aver scritto a un tuo ex compagno di squadra con le emoti con dei bacetti e i pippen nel senso che scarso pippen però era anche un nomino se non mi sbaglio il nome di credo di un guidatore della formula 1 non rompete il cazzo in facendo la rima con dei bacettini nel senso non mi rompete non rompete le palle ok cioè è in maniera scherzosa e ripeto calai ho fatto il coglione sì sei un coglione se ti danno la multa te lo meriti se ti danno un deferimento te lo meriti se ti danno delle giornate di squalifica te li meriti perché non devi scrivere il tuo prossimo avversario non devi scrivergli però ragazzi quante stronzate simili ci saranno in serie B in Lega Pro in serie A tra giocatori su Instagram eccetera quante stronzate così quante questo sarebbe il tentativo di illecito tentare con un messaggio così idiota di far sì che il giocatore avversario effettivamente non giochi raga ma di che stiamo a parlare io veramente ragazzi non ce la posso fare non ce la posso fare scrivetemi in un commento qui sotto che cosa ne pensate a riguardo nel caso comunque nel canale Instagram e Facebook trovate effettivamente il messaggio l'ho postato lì su in foto fatemelo sapere in un commento qui sotto ragazzi io non ho parole veramente che schifo